Ok, sì, che abbiamo visto noi è del 2 di las 4, ok, è sumamente importante, è del 2.3 di un anno, di profezia, Daniel 18.4, che mi ha detto di 2.3 di nocci, è il santuario del Wardo purificato, ok. Dio non sape anche, secondo il nostro bimbo studia, che il santuario di Dio adunano a Moisés, che tra un copia di Dio un vero, che è del cielo, quindi ora è, non sape che Gesù in 4 non stava da te, e Dio promete un poco, non stava da te un santuario fisico ribatera, ok, e non sape che di 2 tempi al tambe, e Salomone a Wardo baixava al tambe. Dio, se Suss me avisa in anni 70, è profezia cumpli, cammina di un piedra lo non ha qui da riba o altro. Dio, ora che la pavide è santuario, che lo tende a Wardo purificato in tempo, e ora è, non stava da te referire a un santuario ribatera, però, se no, è santuario celestial, ok? Asini, buona, non stava io ora e i, allora non scuia, asini qui, ti urumango che le se le, non sape che quando, non sape che continuare con i, non sape che ti urumango che le se le, un mission, un plan di salvazione, un nome riba, numero, è sta un Dio, un fe, un bottisimo, d'accord? Si. Però guardami, quita, ecco questo minuto, mira il vero, non mi, questo non mi, ok, è la pisa, Dio mirando di lante, con su buona profetica, vista profetica, a profetizar lo siguiente, Génesis 3, G5, e lo mi pone en amistad entre abo e emurre, e entre bo seminha e su seminha, e lo heredà bocabeas, e abolo heredà suiuti di pia. Amen. Ehi, tremendo. Dio stincon en amistad, si manpa sa, non sape che vi direi, entre emurre, sui e seminha, entre abo e emurre, in nosa studio si manpa sa, cotindò si mia, ok, si mia di diablo, quam 8, corenni e quattro, non sa mira, quam 8, si, 8, corenni e quattro, non sa mira, Galatio non 3, 16, con non sa togo si manpa sa, e si mia, e la biazza non si non da parla di si mia, non, sino, su si mia di palta king, Cristo e Jesus, e di visava nel final di versicolo 16, e è muve, iglesia di Dio, Jesus come capace di iglesia di Dio, si empece nel 5, 23 e 32, non sa mira, e colebra, revelazione di 2, 9, cota e son otro, su si mia, e le visava, e ora ei, non sa qui, tu reparti non ei, e non sa mira, quittin, dos si mia, dos tipo, di si mia, ok, dos tipo di tata tambe, non sa mira, si ma, non sa, ora, non sa qui, guapo, subia, passiamo a lesa tambe, promè, Juan capítulo 3, non sa, riesa al versicolo 9, ok, un debara, anteriore, non sa, vai qui, disuntikimavou, ipano, sigimira, e si mia, aki, di enemigo, versos, e si mia, di Dio, kiko, eta ha, si din, din hende, o, anteriak, menta, per se, anteriak, tingupara, wopiketo, pawa, kwa tesimi, kwa tesimi, nan aki, ta, din mi, ave, ok, la, conoscue, anteriore, versicolo 9, trove, y versicolo 10, Tiro Mangu, kielese, si, va a abrir mic, nos pude se, ya, Tiro Mangu, kielese, nobody, nadie, na, una, nons tingo le se, Stephen, ferie pantalla, no, baby, ok, kiko, tira, guan, si, promen, juan, tres, versicolo 9, 10, promen, juan, oh, 10, promen, juan, tres, 9, 10, visa, oh, eto, visa, , E un gente, come la nazione di Dio, non pratico. Pessoa, su simia, permanece dentro. E non potesse picar, pessoa, ela nazione di Dio. Ma è sa che io di Dio e io non di diabolo conosci. E sono, come non pratico la justicia, non è di Dio. E sono, come non stima su Roma. Prendevo. Prendevo. Non vedo che non stima la justicia. Diz che è il versicolo di Gesù. La justicia di Dio e la justicia. La sombra esatta e il mensaggio che vanno attendo. Forse di principio, Connozzi la stima di Dio. Qual è la frutta del Spirito di Dio? Per me. Per me, la frutta del Spirito di Dio? Amor. Amor, ok, tremendo. Prendevo. Amor. Amor. Un altro versicolo di Dio. E 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 Dio. a Dio. E Dio. E Dio. non ha visto sì, però ti dimentico il nome, non sa sa che devo io, non sa se volto in milagre, non sa di me aperto, non sa io. E mire, non ti è hecho di cargare il nome di Gesù, non ti è hecho di essere discípoli, ok? Signor Kiko è hecho di essere in Gesù, che si mia pertenece di Gesù, di noi, di Gesù, di noi, a teori, non sta parte di Gesù. Noi, non sta un po' ne, di noi, Dio è ora che vieni a buscare Kiko. Su iglesia, è ora che vieni a noi, è ora che vieni a santo, quindi si mia è ora che pertenece di noi, è parte di noi, che vieni a buscare noi. Qua ora che vieni a me in matrimonio, è vero? È breitt, sì, è breitt, è breitticham, quindi nostra è esposa, ok? Io anche vieni a buscare su esposa, però è esposa è già in Gesù di Gesù, uno con le. Come ne? La si è romana con le, o va a come? Matteo 3. Matteo 3, Matteo 3, io sì, ti lo manco che, le sei 8 con 9, Matteo 3, 8 con 9. e non lo manco che, non lo chiede, non lo chiede, non lo chiede, non lo chiede, ma sembra mi ti avisa vosso che Dio spaventa di Yuna e Abraham fuori e piedi e non è l'acqua dai va a vedere quando vieni non ti inquinti va vieni se non non si può in un'altra di giù di Abraham non si può non è avventista non è non si può vieni 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 d'acqua d'arrippendimento non chiedo che vosso vieni 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 nostra adventista mi cambia è la parola di di nostra condizione non vieni che non sta adventista non Dio spaventa adventista non fuori onda forti e piedra non aqui va qui che Menni Dio sta l'antendo e es ma se vi sa vieni di so io non di f di otra iglesia fii tempolo è alla nangadine poi ne pe llega un trupa in un guardado all right non sa capta idea mira humana non stu come sa capta non so studiando iglesia di di Dios per iglesia di 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 not simplemente per so un edificio un nom di religione di nos iglesia etc E se è l'Iglese, realmente, finalmente, no? E' l'Iglese di Dio, non è la persona di Dio, non è la semia di Cristo, non è. E' l'altro, non è la forma con una multitud, è la sua opzione. E Dio non è la sua opzione, Dio non è la sua opzione, Dio non è la sua opzione. Non è la sua opzione, non è la sua opzione. E' un libro che è F Fui principio, Génesis 3-5, ten al final. Dio che Dio ha il suo plan di salvazione e il nemico ha il suo plan di destruzione. Come ho? Ophelo. Dio ha il suo plan di salvazione. Il nemico ha il suo plan di salvazione. Il nemico ha il suo plan di destruzione. Come ne ha controlli. Quindi se vuole in Revelation 2-7. Il tavolo ha il guerra del cielo. Miguel e il suo angelo stavano da si guerra contra il dragone. Il dragone e il suo angelo stavano da si guerra. Come è Miguel e il suo angelo. Versus il dragone e il suo angelo. Ok? Quindi vi se vuole in Juan 10-10. Il dron, il diablo, sta venne solamente per harta, mata e per destruir. Quindi a me, il suo spavano di su mes, a bim paduna, a bim padunna, panantin vida, i panantiena. Abundancia. Voi che? E mentre dos strumentin, e i heluk. So, voi che non si vuole iglesia. Rondoi dos iglesi pare di sufrir resurrezione e vida. Che com'è? Orazione forte del Spirito Santo. Nosti, iglesia di, 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 come si chiama qui? Iglesia di e Santo, non di ultimo dia. Testigo di Ophi. Andi io, numero, cantidati, iglesia, cantidati di religione. però, voi che di menzionare dos solamente. Perfetto, non è romano. Non teremo ne quita, dos o dios te mira. Si, dos o. Oppi religione, però dos o te mira. Non ti mira ma. Diciamo, non è, sono, che ti permette di un diablo, che ti hai simile di diablo, dentro. E sono, che ti permette di un dios, che ti hai simile di Cristo. Agora, vanno con il primo Juan, avui non si mi raccaba, Matteo 3, versicolo 9, con dios polante, e uno di Abram, fuggi piedra in l'arca. Ok. Bueno, che non sapete qui trovi? Il primo Juan 4. Ok. Il primo Juan 4, non si puoi, rapidamente, il primo Juan 4, il versicolo, ma qui un rato, si, il secolo di Gesù, un, Gesù, Yes. Nescoi Gesù, 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 di estima altro. Ninguém non amira a Dio nunca. Se non estima altro, Dio sta permanece di noi e il suo amore guarda un racismo perfeccato di noi. Dio quattro? No, dio tre, me levo. Dio tre. E' la vista per me di essa qui non sapo non sta permanece di noi e di noi per la sombra E' la donna-nos di suo spirito. Yes. Ok. Bueno. E' la vista è ora e la vista è ora e va, che amarezza sì. Bueno, se mi dice highlight un rato, versicolo 10-2 di prima con 3 e' la vista non manera kain. Ma'aka ho. Ken e tavata di ken? Ken kain tavata ta? E' di Adam. 10-2 di satanas. Yes. e' di Adam. E' malvato. E' amata su romano. E' pa' che motivo l'amate? M'apote miradossi mille in avanti. E' sun. E' di me sa e' di Adam. E' sun. 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 di mondo qui, il diablo. Ok? Però io ti savo che non è ora e che ti dò, perché c'è un po' avanti, un splice, è partito in dòs. È usto e è in usto. È sungo da pertenece a Cristo e è sungo da pertenece. È di sé, è claramente che non, nel versicolo di 2, che è stato da pertenece a E, malvato. Così, dimmi un contesto di simia, nel versicolo 9, ok? Nel versicolo 8, è dimostravo che è simia di Cristo che non vive di noi. Però c'è non ti è. Perché è l'amato di un romano? E mire, come ave, è costa vai molto più di più di un romano in inglese fisico. Voi, miro con l'uomo. È costa quitte vivere, di un corso, sono di miembro di un inglese. È sì, sì. Ma se mi rea oltre, mentre se ave, non si mi stai, la copia di noi, di noi, di noi, ma per noi mesi, non? Un'amato di parà. Quando mi sommi con il claim di di Udi Abram, non è il claim. Ok? Però, sem ombra, voi, dimmi savo di una fruta che era quadra con il arrepentimento quando va a desaparecer. Ora, se Dio vuole andare a vendere questo, non è così? Ok? E se noi stiamo parlando un po' di chiudere, guardando il Signore mi pertenece a una buona iglesia, non mi rè? Se io ti un'engancio, la sua hermana vai divisa avuto, non mi rè? Non mi rè? e registro in di iglesia, chi chi sa chiede? Non mi rè? Se io ci senti, non mi rè? E registro in di iglesia, ed è vista, non mi rè? C'è chi c'è? Se vi re? Qu'è lui? Pra te qu'argo ora io ci sono, la cornice di Gesù, non dico Gesù ah, non sei, è demore non sommetendo a noi atta nostra cura e che cosa è usare non riesco a cercare ma riesco a cercare vostra nomi che vi è un buco di vita è un buco di vita di Enxil di Enxil, corretto e io ho 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 scritto come ne va a che buono non ho preoccupato allo che sta qui buono non stico preoccupato lo che sta riva è riva, è riva sta rile è riva sta scrudri è sta mirando ma come ne è se Dio sta mirando in profondità nel mio corazzone e declarami inusto o fusto ok? è rile è scritto è perfetto di Gesù è dice diablo che è per a gente comprender profecia pregunte a buonanotte è dice no nonca diablo non stava che è per a gente comprender profecia ci dicono profecia da desmascarare e planan di enemigo su plan di destrucciò eterno vuoi che ti dice ora è la visame non ti ne miro di Daniel Daniel 10 versicolo 22-24 per la sombra fuori di promedio che va a ponere il corazzone per comprender e saque e per humilare il mese e l'ante di Dio vuoi vuoi la parola non vuoi la parola che ti dice e mi come la parola di la parola ma è pregno di il reino di Persia significa Satanà stava da strobami quando vinti un dia largo andò di vista e miram Miguel, un dia prensam principal, abim iudami, passò a mia chieda a Enan cerca e reinam di Persia avor, mia bimpa donnavo comprendimento de lo che davai so su de, cubo pueblo di un ultimo dia enan, passò e vi xonti di Asico e di Enan di futuro che meno che, chi coi enemigo hazi co e angeli aceto vintuna Daniel e comprendimento e las goni e las goni e las trobe coi ega cerca a Daniel coi contesta vinti un dia largo avor, di un dia largo e chi Daniel dava darsi al rispetto ai uno e orazione e hai una orazione comenta di un connexion entre Daniel e Cuciello va a che? tu den e connexion dios te revela su mes e tambi bimpa donna comprendimento luz pa gente por mira qui con lo che te vai so su de di un dia en di futuro che mai ave dios por i che papi con nos duna nos direcciom vera? pero no stame dios panda mesi te den e stato di qual dios por revelan a nos su volontà pero diabas o iso te pare in ambas troba per se no sta fiel nada no postroba so diabas tingual un canto in un dado momento et visse den daniel 2 3 assina a sale decreto un mestre mata esa abia e busca que mas daniel e su amigo para matar dios diabas tiene rabia arriba el profeta entendere? so el profeta puede profetizar gente porta prepara pero amigo uno kepa nos prepara ave miro mano kepa nos pienso que te cucanei te costo keita toda historia de su son vir banos ok ken bolese daniel 1 7 y versículo 20 e kiko daniel datin ku diabla me kri bajee pam maté ken kiko le se vers 7 daniel jes 1 jes 7 20 en la ecuator joven aquí dios aduna conocimiento e inteligencia dentro ramo de literatura y sabiduría y daniel te vas a comprender tu sorte de vision y sueño 20 y en tu resuento de sabiduría y comprender y y comprender 10 veces mi ho tutur e mago y astrólogo nan tu tab tin den jen ter su reino amen ok dios kik kemendi daniel dati un kono cemento inteligencia den tu ramo de literatura y sabiduría y e kors kuj java de hat mes mes java de comprender tour sorte de vision y son java java nupas net net nado su den sato go dios mu stre kone kame not in sekreto am stre chete kide vizenos kod dios kode vizetro be segure dios kode si kode kode revela su consejo secreto na su servidona amén e bese jore dios dios verdad este evangelio eterno pese e que liquida turpo por divulgar su plan engañoso of engañoso mortal vaga kento e profeta da uns zon piña den kore di dios se te mira no no di sumers dios se must re pese ave nos mes agradecido se danki kode un profeta lo muri si pero la scrivi entonces escrito non da si que vivo te ave nos po mira certo con go ei otro na nota mira pero diabo su planta po mate profeta trove su escrito no verdad di pensavo no 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 es spirit profesía no ve ne dios pero diosa duna y spirit danial de tine spirit di profesía ve la schive bu qui non profetico tam mire daniel daniel all right diablo persegui jesús no simplemente et tav da sa ken eta pero de acuer go sictura sino pas som jesús tam bet tine don di kena di et don di profesía bo ake can se jesús tava de can se sorry si can jesús tava de can se di con et no por yesús sa su plan no ito obra de secreto de oscuridad pero jesús sacana na luz all right oh e quiera mat jesús pas jesús tam mitha tine spirit de povesía quem boleh se maté 2 16 i ches ches quem boleh se ter i was cring kava no ora herodes amira fue la war do gania pa es sábio na ela vira razo y alaga mata tur e mucha homer nan cut abatim na betlehem y den jenter e vecindario ei di edad de dos años pa bau segun e tempo nan que ela averiguar cerca e sabio nan e ora ei a queda cumplir lo que aguardo papiá do de profecia jere minhas e pisa me avise señor mi harry para cuba dun kiko un profeta entonces jesús avise un profeta nota bom viní den su mezclas ento 5 minhas avise parise y tanbe y el avise el pueblo tanbe los han mat todos los profetas no todos los han mat los los di con diabo y con rabia y profeta lo conveniente es el pueblo de dios siempre en línea de iglesia de dios ese mí que ocurre fue genesis con la terminada revelación tiene un profeta me me siempre el mirador también de no es mister de mirador guapo los diabos tiraba el espíritu santo y también tiene el mismo espíritu de profecia aquí no profe lo ven di en espiritu santo que tocó di con no espiritu santo la no su aquí quien puede ser juan jes jes dos te jes cuatro espiritu santo bari jes de forma de un palomba pero no tiene ningué di con vamos a di con quien puede ser es es de rachaz de espiritu santo a inda mitin hobbicos mas debisa boso ma boso no por soportar nan awor ma ora pu es espíritu de verdad pini el guía boso de tur verdad pa sobra el no pap di su mes matur lo que estende el pap y lo que tín divin el lo revela na boso el glorific tam pa sobra el toma por di lo que ta dimi y lo revela es aquí na boso amen Si, non è come dire? Diaboli inventa alcuna in. Non è innocente, no. Se mi interessa è la gana e vacca. Diaboli non so le sei? Corgo non so le sei. Gana e vacca è da qui di... Non mi chiede su a... Corgo non so le sei, però... ...ehm... ...ehm... Si. Prometti Matteo 4, 1. Quien que le sei? Prometti Matteo, rapidamente... Capitolo 4, versiculo 1. Non è... ...nada è innocente, non ti, non, Romano. E' malvato da se con anche. Un è un evangelio verradero, e l'altro è di diablo, e l'altro. Si, Romano qua è? Prometti Matteo 4, 1. Prometti Matteo 4, 1? Ma il spirito ti avisa chiaramente... ...qu'è ultimo tempo... ...algun lo che hai... ...for di fare... ...dò di pagare attenzione a spirito... ...engaggioso... ...i doktrina... ...di demoni. ...de demoni. ...l'um... ...erre... ...è una domanda... ...ma ah... ...perdante di cheque... ...n'um... ...dò di demoni... ...wa e'enne... ...ta' innoce... ...wa te pesei ave... ...Dios... ...astave sei... ...su iglesia... ...wa e'verdad... ...wa qui... ...varu... ...plammat... ...verso... 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 Gose tammi testi gulano Na Yerusalem Odea Samaria Itene parte namaz Alega di mondo Eberdaad me se vuordo Plama De una maniera Di fronte di Dio Eberdaad Cosali Yerusalem Egalo Eberdaad Etevui Genesis Diozo don Adam Everdaad non è la sì non c'è il sacrificio che tu regolai non c'è un evangelio vero come si è fuori fuori la salita di Gênesis io c'è canta che non c'è una revelazione del mio non mire che men le altre parole mi romana c'è un' doctrina di Dio e c'è un' doctrina di enemigo e non c'è un'altro due iglesias c'è c'è un'ultima di aboli si è su rabbia di Dio su iglesi e come? è che ha si è che è descendente di Dio va che so è che è rabbia di Dio di Dio non c'è l'essere voi è che è rabbia di Dio profecia ok è che è rabbia di Dio è seguido di Dio vale se che è l'essere in versi 2 versi 27 e il dragone è furioso e il ragone e il ragone e il resto e il descendiente e il mandamento di Dio e il testemunio di Gesù Cristo amè è furioso e il ragone un spirito e il dottor spirito e il dottor simile ma ora Matteo 2.16 ma ora Gesù ora erodis a mira quella che è la vita raso e il ragone di molti in Bethlehem di inter e il vicendario e il vira raso e mire il vira riva bo se chiede a mata Gesù e il tene Gesù e il vira rei di noi e il permittino di e il rei ok e il vira raso o di altre parole furioso riva e muove ma mire trovi e il vira la abia riva e muove nel primo lugar è ancora Génesis 3.16 che l'avisa dove pone Kiko inimistà entre abo e Ken non si mire entre abo e muove se vai e il vira trovi e il vira furioso riva e muove ok e il vira e il vira e il vira e il vira con il resto di suo descendiente mire Ken non guarda il mandamento di Dio e il tene testimone di Gesù si vostri mam in Juan 4.15 guarda il mandamento in che può guardare mire se tene rabbia il mandamento non mire mire mi romano iglesi di Dio di Dio di Dio di Dio la uvi al furio cedra con di di s'capa su iglesi e denga uvi di roma Ma non è vero se il romano è un edificio di cantica, piano, banca, bimber. E cosa è vero? Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, è un luogo di libertà. Ok? 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 Chi vuole essere? Revoluzione 19, versi 10. Ti romano quello che vuole essere? Adorare a Dio, va sopra il testemunio di Gesù, da spirito di profecia. Mire, come and what? Il testemunio di Gesù, da spirito di profecia. Come andiamo, sono due parole, quando viene del spirito di Elias. Il spirito di profecia. Come andiamo, don di profecia. Come andiamo, Dio sta donando il suo pubblico, don di profecia. Il rabbi di don di profecia, il rabbi di don di profecia. Il rabbi di don di profecia, il rabbi di don di profecia di come. La sombra è da desmascherà il suo plan. Come andiamo, di avere i miei romani. Mire, come andiamoci qui. Ok? Il evangelio del testemunio. Ok? Il evangelio del testemunio è il tribù di purificazione di Cristo. e il tempo di fin di Cristo. Nienti cammini e nienti tempo di non... Nienti gente ha il salvozione. Per me e di oberon. Nonca. Per me e di visare o oberon personal o... For di alcun rito, o ritual, o cerimonio non... Nienti gente ha il salvozione. Per me e di sangra di animale. Tanto e di ente se me envio in novo. Nienti gente ha il salvato per la grazia di Dio. E il feo di merito di Gesù. Il sacrificio non è si... Tappo mostra il feo di redentor. Il siguiente texto lo clarifica. Il sentito è il servo di Gesù. Nienti gente ha il salvo. Il servo di Gesù. Il servo di Gesù. Nienti gente ha il salvo. grazie a vencedor è davvero dei sempre ok è davvero qui Pablo ha davvero Romano 1.6 non ti vergogni di evangelio di com non ti vergogni di potere di Dio per salvazione per il turco ti chiede per il diuclome logicamente e per il griego non ti vergogni salvazione è la fronte per il griego ogni e un non ti vergogni non ti vergogni ti 친구 si non il è buono nuovo, sì, è buono nuovo, però mirando back di un testamento vivo, non è buono nuovo. Sabe dire? Sì. Il buono nuovo non ha existito in testamento nuovo, no, il buono nuovo è buono di un testamento vivo, è un evangelio da, non c'è salvazione di nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno non c'è nessuno Il Dio Paglia Sini. Il Dio Paglia Sini ha fatto. Il Dio Paglia Sini ha fatto. Il Dio Paglia Sini ha fatto. Non vedi? Il Dio Paglia Sini ha fatto. Ma è che non è un Dio Paglia Sini. O che un anglio ha fatto a predicare la vostra un evangelio contrario a chi lo ha fatto a predicare la vostra o si è male. un evangelio eterno non è come se fa in Génesis non cambia non è che era avvenuto in 2023 per il nostro non è un tempo moderno non è un tempo non è un tempo per mantenere un evangelio per mantenere un tempo moderno non è mantenere l'Iglese fisico ma mantenere l'Iglese fisico l'Iglese fisico non è mantenere l'Iglese fisico non è mantenere per terminare il Vice Testamento è un messa in quanto di salvazione per mezzo di Cristo la scrittura di cui non è un mostro è un sacco di Testamento di Dio il testo è assunto clare il Testamento di Dio è un messo il evangelio ok e salvazione per mezzo di Cristo che non è un testamento che non è un messo di Dio di Dio di Dio che non è un messo di Dio ok ok quindi ora di nuovo la predica di nuovo che non è un messo qui è un messo 24 Lucas 27 Kien quiere se Kien quiere se Yes Y comenzando con Moisés Y que tú le profeta Él explica Tocante de su mes Lucas 24 25 y 27 Amén Ok Ella dice Tocante de suobilidad Oh Cristo amor Opano Spican Según Equigo Escritura Pasque Tocante de mi Savo Dine Lucas Mes Un Cos Y Él Escritura De Cos An Lights Tocante Diz Est essas Méticas Estreitamente interrelationale un pochino che è un pochino che è un pochino che è un pochino partì di due, è uno mentre in buono aveva un genesis ora come Adam aveva un pochino a Drenthe dice che è un pochino che è un pochino che è un pochino amore per noi spiega e peccatori li libero e mi sono amore che è un pochino che è un pochino di piccato morto però in l'allogare si che è un pochino che è un pochino di grazia con te kico vita eterna di Cristo Gesù ora è la visione di presentare un evangelio fuori di genesis che è un pochino di rivoluzione un plan di salvazione per la humanità è il bambino di amesacchi evangelio eterno di rivoluzione 4-6 è il primo angolo è il pacto eterno salmo 6-5 versicolo 10 hebreo 3-20 non dannan non ti in cambio di evangelio in un testamento bio e nuovo è bio dannavo partina simbolo nuovo dimostravo è è realità di simbolo ok testamento santuario matalanti testamento nuovo jesù come il vero che ti mori per noi spicano è un continuo e 2-2 è l'am che deve vimbiare Cristo e Gesù per buscare su scuina che mandi ok sì quindi qui è il nostro mire è il nostro otro simbolo che la 5 lo è il nostro preparato il nostro è il nostro di l'Iglese di Dio qui è il nostro tempo l'Iglese Adventista di 7 di Dio se vabbè ora è il Kiko al final quando si è in iglesia ventissima con ecco la beve su giù t'arriva iglesia ok non non si vabbè mira nos posicione tambi onde non si parà attualmente lo sanno un iapacava lo spolante una di Abram fu gi piedra no sanno iapacava Adam sorry Cain stava da dia malvato non voltava dali dios su esimile di etava dell'ingel comien dia venu ci virumano conosco clausura all'op importante che si via di cristo da demi sia noto demi stai stai chiamando mi barra son nà cunè se es 118 il mor il l'agano sra son nà un tu verà ma se bo picano de maniera escalata qui lo as con non e il assinà l'angu maniera sneu ok e pergunto a beno città per nos veic clausura du eno d'avis senyor mi quepa vussi mia ta pertenece ven mi no queta dia malvado maniera cain in osso ma senyor yudami transforma di tal maniera che vo si mia per permanece di mi un uvo quando di no sabe di si ame di con mi ame 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 osso ver esse tata di amora beno chi senyor un di amas osso il vò bai bindindindie scrudiago scrittura nang santo e non seri parà senyor cu en verdad si lo fulè o nè 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 bai 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 di Gesù. di Gesù. In il nome di Goyusti, ma Cristo Gesù. Amen. In il nome di Gesù. ok grazie a tutti i bambini e la famiglia e un altro via grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buono ora è il nostro topo e io buona buona notte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buona notte 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 Grazie a tutti